Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo questa sera parlando della città del Natale perché questa mattina sono state presentate tutte le novità appunto di questo importante evento che ormai da qualche anno porta davvero tanti milioni di turisti ad Arezzo. L'augurio è che sia una città di Natale dove si possa festeggiare, dove si possa vivere la magia di queste festività nel miglior modo possibile, speriamo di renderla più attrattiva e più accogliente ogni anno di più e quindi l'auspicio è che sia un passo in più rispetto a quella dello scorso anno. Arezzo è pronta a trasformarsi nella città del Natale, tante le attrazioni e gli eventi in città da sabato 18 novembre. Al Prato una delle installazioni luminose più originali e grandi d'Italia, oltre 640.000 luci LED illumineranno ben 8.000 metri quadrati del giardino storico. L'antica fortezza a Melicea diventerà di nuovo la fortezza delle meraviglie dove sarà allestito un vero e proprio villaggio degli Elfi ma si guarderà anche alla cultura. Faremo una mostra d'arte allestita nei 5 rifugi di 5 artisti importanti italiani curata da Fabio Migliorati e in collaborazione con la soprintendenza archeologica di Arezzo abbiamo realizzato un video che fa vedere tutti i più importanti ritrovamenti archeologici fatti proprio all'interno della fortezza. In Piazza Grande sino al primo gennaio tornano i mercatini di Natale del villaggio tirolese, mentre per i più piccoli fino al 24 dicembre si rinnova l'appuntamento con la casa di Babbo Natale. Nel chiostro della biblioteca anche quest'anno la mostra mercato artigiani di Natale, mentre in Piazza Sai Jacopo e Piazza Risorgimento il mercatino tradizionale. In Piazza San Francesco poi sino al primo gennaio la Galleria di Arte Contemporanea ospiterà Brick House Art con opere d'arte e laboratori che utilizzano un totale di 2 milioni di mattoncini. Tra le novità dell'edizione 2023 invece è l'Arezzo Christmas Tour con un minibus completamente elettrico. Parte, ce l'abbiamo fatta il 18 di novembre, parte con un percorso chiaramente diverso rispetto a quello che sarà lo standard durante tutto l'anno, perché ripeto è un servizio che sarà per tutto l'anno. È un servizio che a noi piace molto, crediamo che possa piacere molto anche ai turisti, è una freccia in più all'arco di tutti i nostri operatori, che siano gli alberghi, che siano le guide turistiche che potranno approfittare di chi scendendo dell'autobus elettrico, e sottolineo elettrico, avrà voglia e necessità di approfondire quello che è stato semplicemente accennato dalla video audio guida. A Rezzo Città del Natale sarà infine l'occasione per promuovere anche l'impegno del volontariato a retino. La casa mobile del volontariato viene messa a disposizione di tutte le nostre associazioni nelle giornate del fine settimana dell'Immacolata, 8, 9 e 10 dicembre, in piazza Guido Monaco, dalle ore 10 alle ore 17. Poi la nostra sede, che è posta in piazza San Domenico al Palazzo Fossombroni, sarà aperta nel sabato del 16, 23 e 30 dicembre e 6 gennaio, dalle 9 alle 12 per permettere a tutte le associazioni di incontrare i cittadini e tutti coloro che hanno voglia di impegnarsi nel volontariato. Infine, come lo scorso anno, la Fondazione Arezzo Comunità ha fatto da coordinamento delle tre pubbliche assistenze, che aderiscono tutte e tre alla Fondazione, per far sì che ci sia la maggior copertura possibile di assistenza ai cittadini, ai visitatori e ai turisti che frequenteranno la città del Natale. E siamo alla cronaca. È stato ritrovato poco prima dell'eventuno in mezzo al bosco, dopo ore di ricerche e disavventura, per fortuna a lieto fine, per un 79enne che nel pomeriggio di ieri si era appunto perso nelle campagne di Montevarchi. A ritrovarlo sono stati i vigili del fuoco sul posto, anche i sanitari dell'emergenza urgenza e i carabinieri. Lunedì senza corrente elettrica e così tre scuole ad Arezzo dovranno rimanere chiuse. Parliamo di quelle che si trovano nella zona di Salleo, ovvero le scuole elementari, la scuola dell'infanzia e l'asilo nido Peter Pan. C'è una specifica ordinanza ovviamente del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, che ne dispone la chiusura. Tutto questo perché ci sono in programma interventi da parte di E-Distribuzione dalle 9 alle 16, quindi sarebbe stato impossibile tenere aperte le strutture. Tra le vie interessate, e quindi in questo caso coinvolgeranno anche i residenti, ci sono via Vincenzo Bellini, via Del Casolino, via Gaetano Donizzetti, via Ottorino Respighi, via Giovan Battista Pergolesi, via Di Salleo e via Cimarosa. Era stata richiesta la sospensiva Altar della Toscana dell'ordinanza con cui il comune di Bibiena aveva imposto di liberare urgentemente l'area ex Sacci da rifiuti pericolosi, così recitava l'ordinanza, i cancerogeni e poi smaltirli. Adesso la proprietà dell'immobile dei terreni ha avanzato un'istanza di riunione della sospensiva al merito. Una mossa, spiega il legale, l'avvocato Alberto Rubeschi, dettata dalla volontà di accelerare proprio i tempi per ritornare prima possibile a disporre di quest'area. Se si fosse proceduto con la sospensiva, afferma l'avvocato, avremmo rischiato di attendere anni il pronunciamento sul merito della questione. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha peraltro già fissato la data in cui si esprimerà, ovvero il 13 marzo 2024. Torniamo ad Arezzo, cercasi gestore per il nuovo bar-ristorante che appunto potrebbe sorgere nella zona della ex Cadorna. Il servizio. Un bar-ristorante nell'immobile che ospitava il corpo di guardia. Così l'area dell'ex caserma Cadorna cambia volto, sarà una piazza concepita in maniera nuova, strategica e funzionale al resto del centro storico, commenta l'assessore all'urbanistica Francesca Luccherini. Abbiamo infatti pubblicato il bando per la concessione in uso della palazzina in questione. Il contratto avrà durata 15 annale, con possibilità di proroga e prevede nello specifico un bar-ristorante all'interno di un volume che dopo un attento sopralluogo è stato ritenuto strutturalmente stabile di adeguata fattura e valore architettonico. Così sarà oggetto solo di ristrutturazione e adeguamento energetico prima dell'avvio dell'attività commerciale. La procedura di asta pubblica scadrà alle 13 di lunedì 11 dicembre, saranno ammesse imprese individuali, società commerciali o cooperative, tre giorni dopo l'apertura delle buste. L'intento, prosegue Luccherini, è procedere con una riqualificazione urbana omogenea che faccia perno su questo spazio così grande del cuore della città. Vogliamo che non sia solo più un parcheggio, ma diventi un luogo d'incontro. L'immobile, che ospitava il corpo di guardia, è articolato su un unico piano fuoriterra, compie accessi dall'esterno, misura 229 metri quadrati e dispone di tre bagni. Sarà corredato anche da un resede. Fermiamo il massacro in Palestina. In Arezzo scende di nuovo in piazza. L'appuntamento domani alle 17 in piazza Sant'Agostino. Alla manifestazione parteciperà Youssef Salam, delegato della Mezzaluna Rossa palestinese, che darà testimonianza diretta del dramma vissuto dalla popolazione a Gaza. Morì forgorato mentre si trovava a Pesca in Alto Casentino, lungo la ciclopista del Darno. I genitori di Gabriele Lusini continuano, nel nome del figlio, ad aiutare la loro comunità. Hanno donato fondi alla casa di Emma e un defibrillatore, appunto, per la ciclopista. Vediamo. Catiuscia e Fabio Lusini continuano a fare beneficenza e aiutare i giovani e le associazioni del territorio in nome dell'amato figlio Gabriele, il giovane che perse la vita in un drammatico incidente a Bibiena lo scorso giugno, fulgorato dai cavi della corrente elettrica che aveva inavvertitamente agganciato con l'amo della sua canna in carbonio estendibile. Morì nel giorno del suo ventunesimo compleanno. Adesso a beneficiare del nuovo gesto di solidarietà, gli ospiti, bambine, bambini, ragazzi e ragazze, della casa di Emma, la casa famiglia di Farneta. Un gesto di grandissima forza da parte di questa famiglia meravigliosa, commenta il sindaco di Bibiena, Filippo Vagnoli, che ci sta mostrando una nuova strada, quella dell'amore per il prossimo che guarisce ed unisce. I fondi donati dalla famiglia di Gabriele, prosegue la coordinatrice Chiara Fabri, ci hanno permesso di acquistare questo tavolo. Non è solo un oggetto, per noi è molto di più, è un luogo. I ragazzi devono potersi ritrovare insieme, potersi riconoscere e parlare. I genitori di Gabriele hanno voluto anche acquistare un defibrillatore che sarà collocato in via dell'Orto all'interno della ciclopista dell'Archiano, non lontano dal luogo della tragedia. Siamo in avvicinamento anche al 14 novembre, la giornata mondiale contro il diabete. Domani ad Arezzo è in programma una camminata che si chiama Diabete Camminiamo, organizzata dal Lions di Arezzo, a cui parteciperà anche l'Associazione Diabetici Aretini. Quest'ultimo avrà proprio uno spazio per la diffusione di brochure redatta dalla Diabetologia di Arezzo, 36 pagine curate dalla dottoressa Alessia Scatena e Ivana Ragusa con la collaborazione di Stefania Fanelli. Un vero e proprio prontuario che appunto aiuta ad evitare tante banalità e dà molta sostanza a chi vuole accrescere proprio la consapevolezza su questa patologia. Via la camminata, dicevamo, è domani in piazza Sant'Agostino con partenza alle 10. E con il prossimo servizio parliamo ancora di diabete perché c'è un importante accordo con le farmacie comunali. Torniamo a parlare di diabete, sono sempre di più i casi sommersi. Allora l'appello qual è? Che in questo momento nel mondo sono oltre 500 milioni di diabetici, quindi è una vera e propria pandemia, se la vogliamo chiamare così. Come d'altronde anche in Italia sono oltre 3 milioni e mezzo. Probabilmente entro il 2030 arriveremo a 5 milioni. Quindi la prevenzione sarebbe fondamentale. Prevenzione soprattutto nell'ambito del diabete tipo 2, cioè del diabete che deriva in età, ora si stanno abbassando l'età, una volta era sopra i 35, sopra i 40 anni. Adesso purtroppo si sta abbassando perché? Perché i problemi più grossi sono legati all'obesità, a stili di vita e alimentari sbagliati, che possono quindi favorire questo famoso diabete tipo 2, che una volta era il diabete dell'età adulta, ma ora, come ripeto, si sta abbassando. Ma ci sono campanelli di allarme, diciamo così, banali, che un cittadino può riconoscere? Se hai, per esempio, una grande sete, se tendi a essere piuttosto rallentato in certi momenti della giornata, ecco, queste sono le due cose che, difficoltà di concentrazione nell'arco della giornata, sono condizioni che possono indicare. Quali sono le questioni rimaste ancora aperte per chi soffre di diabete e che vorreste, insomma, che venissero accolte anche dal sistema sanitario? Beh, purtroppo oggi si paga qualsiasi cosa. Parliamoci chiaro, oggi con i tempi che corrono, pagare anche cose che sono necessarie per la tua vita diventa difficilissimo. In molti casi la mia preoccupazione è che si evita di farle. evitando di farle, magari ci si ritrova in momenti pericolosissimi, di complicanze, dove non si può più uscire. Come associazione avete però una convenzione? Sì, abbiamo una convenzione sia con le farmacie comunali che con le farmacie private, di un 10%, secondo in alcuni casi anche qualcosa di più, su prodotti da manco che servono a diabetici, perché spesso i diabetici per alcune situazioni hanno bisogno di creme e di altre cose. Quindi l'invito qual è? Comunque a rivolgersi ad un'associazione come la vostra perché almeno a livello informativo, insomma, le informazioni non costano nulla, mi verrebbe da dire. No, però l'importante è che si sia fatto questo collegamento con le farmacie di comunità che stanno diventando sempre più importanti per i territori. Le farmacie di comunità offrono consigli fatti da un medico che in alcuni casi è molto meglio che fatti da un'associazione che è informatissima, non ci piove, però chiaramente un medico dà più certezze. L'associazione è presente. Per quanto riguarda le informazioni abbiamo fatto un deployment bellissimo che spiega cos'è il diabete, però oltre certi limiti, anche perché dobbiamo dircelo chiaramente, siamo pazienti diabetici e non siamo medici. Ecco, sul fronte delle informazioni, a chi si possono chiedere e con quali modalità? Allora, le modalità è tramite i vari canali, quindi le persone si possono recare direttamente qui da noi con appuntamento telefonico, insomma contattandoci e saremo liati appunto di andare a valutare con voi questo parametro così importante per la popolazione. Un appello da parte dell'Università dell'Oklahoma. In questo momento di sfide globali e difficoltà, molti sentono il desiderio di fare qualcosa di positivo, un gesto che può fare la differenza. Molti concittadini scrivono, stanno affrontando tempi difficili e allora ogni contributo conta. Quest'anno, oltre all'evento International Food Festival, gli studenti si sono organizzati appunto per effettuare una raccolta di generi alimentari per i più bisognosi. Si può dunque donare da un pacchetto di pasta, una lattina di pomodori o qualsiasi altra cosa possa appunto fare, come dicono gli studenti, la differenza. E allora insomma un appello davvero da accogliere. Lo spettacolo dedicato ai annacci Vengo Anch'io ha aperto il Festival dello Spettatore. Senti fuori, come vengono zatte! Evitiamo l'inutile spargimento di sangue! Gli annacci! Non abbiamo neanche il tuo gruppo! È stato il film documentario biografico sul genio creativo musicale di Enzo Gliannacci ad aprire l'ottava edizione del Festival dello Spettatore, un appuntamento unico nel panorama nazionale la cui caratteristica principale è quella di focalizzare l'attenzione sul pubblico. Ho giudicato che la vita non fosse un modo di esistere fermi mentre intorno succederono delle cose. Al Cinema Eden il primo appuntamento con Enzo Gliannacci Vengo Anch'io di Giorgio Verdelli nel quale, grazie ad un sapiente uso del montaggio, è lo stesso Gliannacci il narratore del film che parla della sua storia e delle sue avventure in un'intervista rilasciata a Verdelli nel 2005. Parlare di Enzo Gliannacci e raccontarlo è una grande responsabilità, però è anche una bellissima sfida perché per me Gliannacci non era solo, come dire, un artista grandissimo, era anche un amico. L'intervista che c'è alla base di questo logo film è un'intervista che io ho fatto in 2005 a casa mia e quindi questa cosa che lui disse sai, quella è l'unica intervista dove si capisce quello che dico. Ha fatto sì che poi dopo un po' di anni con Paolo Gliannacci e con Indigo e con Ala Bianca che è l'editore storico di Gliannacci facessimo questo progetto. Un ritratto che riporta alla luce le mille sfumature di Gliannacci a dieci anni dalla sua scomparsa nel film e in momenti più importanti i tanti compagni di viaggio e colleghi e poi le collaborazioni con Dario Focco, Chiarenato e con l'amico Giorgio Gaber. Erano veramente, come dire, due facce e la stessa medaglia ma bianco e nero, Yin e Yang e Gaber aveva un amore per Gliannacci e Gliannacci per Gaber è straordinario, tant'è vero che Gliannacci cita Gaber in una sua famosa canzone, se me lo dicevi prima, dice, quando canta Gaber. E infine per lo sport parliamo questa volta di una lunga trasferta che attende gli Amaranto dell'AMEN BC Servizi Arezzo perché parliamo del Piemonte. La partita è in calendario per domani alle 20.30. Sabato 11 novembre alle 20.30 l'AMEN BC Servizi affronterà la trasferta più lunga di questa prima fase di campionato. Avversari degli Amaranto saranno i piemontesi del basket club Serravalle, raduci tra l'altro dalla bella vittoria sul campo di Castelfiorentino. Come l'AMEN anche Serravalle, nello scorso anno si è guadagnata la promozione in Serie B. In panchine piemontesi si affidano al confermato coach Gatti e fanno affidamento a ben quattro giocatori capaci di viaggiare oltre la doppia cifra di realizzazione. Taverna, dopo i 32 punti messi a segno a Castelfiorentino, è insieme a Rasic il miglior realizzatore della squadra. Poi ci sono i due esterni, Gaia e Rossi, con 11 punti di media realizzativa. L'AMEN BC Servizi si presenta a questa sfida con la voglia di lasciarsi alle spalle e la sconfitta subita in rimonta con San Mignato nell'ultimo turno e provare a tornare al successo contro un avversario diretto. La partita tra Serravalle d'AMEN BC Servizi sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della formazione piemontese Palla 2 fissata alle 20.30 di sabato. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortesia attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Grazie per la visione! Grazie per la visione!